Capandori San Francisco, un ponte tra comunità, cultura e turismo. Scoprire Capandori è la decima edizione del Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze in programma dal 16 al 18 novembre a Lugano. Sono i tre progetti turistici e di sviluppo del territorio di rilevanza internazionale per i quali il Comune intende realizzare accordi di collaborazione. Il bando lanciato dall'amministrazione del Ghingaro cerca soggetti pubblici e privati e associazioni senza fine di lucro che già operano in ambito turistico. La collaborazione consisterà nella fornitura di beni e di servizi come ad esempio attrezzature informatiche e azioni di marketing per promuovere ciascuno dei tre progetti dell'ente. Il ponte tra Capandori e San Francisco è stato presentato sabato sera a Villa Tani a Pieve San Paolo alla presenza dell'assessore allo sviluppo economico Maurizio Vellutini. Il Comune è alla ricerca di un partner in grado di mettere in atto azioni di marketing per promuovere il progetto e i prodotti enogastronomici che costituiscono un'eccellenza per Capandori oltre ad azioni necessarie per promuovere e rafforzare i legami tra le comunità di San Francisco e della Piano di Lucca. Per il progetto Scoprire Capandori si chiede la realizzazione e la stampa di almeno 5.000 copie di una guida turistica che valorizzi le risorse naturalistiche del Comune. Per la partecipazione alla decima edizione del Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze si chiede di indicare le forme di promozione pubblicitale da inserire all'interno dello stand di Capandori e di altri servizi aggiuntivi.